Amici di SS Fanta, ben ritrovati per parlare un po' di fantacalcio e delle novità dopo il calciomercato con due giocatori su tutti, Baldanzi e Belotti, parliamo di due calciatori che erano già presi nelle leghe, Baldanzi sicuramente, Belotti anche lui nel 99% delle leghe era già stato preso dalla stestiva, quindi non si tratta di nuovi arrivi dall'estero, di giocatori svincolati, però di giocatori che quindi vanno a cambiare il loro status già all'interno della rosa che avete, quindi le domande sono inevitabili, cosa succede adesso che Belotti è la Fiorentina e Baldanzi ha la Roma, allora partiamo da Belotti che diventa sostanzialmente l'attaccante favorito per essere titolare nei viola, è stato preso proprio per giocare, la Fiorentina paga 750 mila euro per il prestito, quindi solo per averlo questi sei mesi fino a giugno, quindi da parte della Fiorentina c'è la volontà di risolvere così il problema del gol, visto che sia Beltran che Inzola avevano complessivamente deluso e reso meno delle aspettative e la Fiorentina quindi lo va a prendere proprio come rinforzo vero e proprio per essere protagonista, non per essere diciamo una riserva o comunque un giocatore così tanto per prenderlo, quindi c'è stata la volontà forte della Fiorentina, la volontà forte del giocatore di andare alla Fiorentina per giocare per l'Europeo, se no sarebbe rimasto alla Roma per fare la riserva di Lukaku, invece Belotti è andato proprio per giocare, quindi ci aspettiamo che possa, magari adesso non subito però appena sarà integrato, quindi essere lui il riferimento offensivo, poi c'è sempre il turnove, c'è sempre tutte le competizioni, quindi con l'italiano non esiste praticamente un titolare, però Belotti può giocare, può giocare tanto, molto più che la Roma, quindi sicuramente ottima notizia, la Roma sarebbe stato anche da svincolare o si teneva come vice Lukaku, però proprio era chiuso da Romelu e in coppia, non erano granché, alla Fiorentina ci può essere il classico 4-2-3-1, insomma modulo di riferimento di italiano con Belotti prima punta, con Beltran che potrebbe giocare anche alle sue spalle, se non c'è Buonaventura o comunque con delle soluzioni tattiche che studierà italiano, mentre Nzola diciamo è il vice Belotti proprio come prima punta e chiaramente c'è anche Beltran che può fare quindi la prima punta, diciamo che la gerarchia per la prima punta sarebbe un po', potrebbe essere in questo momento Belotti, Beltran, Nzola, se poi dovessero giocare insieme in qualche partita Belotti e Beltran allora lì c'è Nzola come punta diciamo di peso d'alternativa più simile di caratteristiche a Belotti, quindi buone notizie per chi ha Belotti al fantacalcio che quindi si può ottenere, a meno che non sia già super hype, allora vi arrivano delle grandissime offerte, ma pensiamo che magari già dopo 1-2 gol possa andare ancora più in hype e quindi avere poi una moneta di scambio migliore, però sicuramente ritrovate un attaccante perché prima avevate una riserva e invece adesso, anche se lo avevate già con Lukaku, però prima avevate comunque Lukaku e la sua riserva, adesso comunque avete due attaccanti, Lukaku sempre alla Roma da titolarissimo e un altro attaccante che può giocare molto, non tirerà i rigori, almeno non come prima scelta perché c'è sempre Nico Gonzalez, però magari anche qualche rigore lo potrà andare a tirare, quindi Belotti che sale, scende un pochino Beltran perché comunque era il titolare, un pochino era diciamo lui più di Nzola nella Fiorentina, non sarà più così, ha molto più concorrenza, può giocare sì anche dietro, quindi non pensiamo che si possa arrivare a svincolarlo a meno di un incasso importante, quindi Beltran si può anche tenere, proprio come Jolly, mentre per Nzola già era da svincolare prima ancora di più. Adesso nella Roma non c'è più Belotti come vice Lukaku, quindi cambia un pochino la situazione dell'attacco, Lukaku è tanto, era già il titolarissimo, però con lui in coppia, prima c'era un attacco a due che era Lukaku di Bala, adesso di Bala un pochino più indietro e Baldanzi sostanzialmente va un po' anche diciamo così a colmare il voto a shotta a Belotti, perché se prima appunto in questo attacco a due Lukaku di Bala, se non c'era di Bala doveva giocare magari Belotti o delle altre soluzioni, ma comunque nessuno che si potesse integrare bene con Lukaku perché Lukaku e Belotti un po' troppo simili come caratteristiche, invece adesso è diverso, di Bala se non ci dovesse essere per infortunio ha un vero vice che è Baldanzi, e quindi Baldanzi, El Sharao e Lukaku se non deve esserci Di Bala, se invece Di Bala c'è e sta bene, Di Bala gioca, Lukaku gioca e quindi magari Baldanzi può andare a sfidare El Sharao e anche se appunto come caratteristiche, come piede, come tipo anche di movenze, come posizione in campo è più simile a Di Bala. Ma chiaramente poi starà De Rossi valutare anche se possono giocare insieme Di Bala e Baldanzi, quindi comunque Baldanzi non sarà ecco solo una riserva, la riserva di Di Bala, magari potrà giocare anche in coppia con Paolo, quindi magari a posto di El Sharao o magari studierà un 4-2-3-1, ci sono anche tante competizioni e quindi ci sarà un po' di rotazione, e poi sappiamo che purtroppo l'Argentino qualche partita le salta sempre, ogni tot si ferma, comunque avrà anche la possibilità sia di uscire prima che magari di riposare in qualche partita. Comunque Baldanzi è più jolly, non è più il titolare che diciamo sarebbe dovuto essere all'Empoli, perché poi ha avuto tantissimi problemi, invece di fatto poi quest'anno ha giocato poco per via degli infortuni. Però adesso ha più entusiasmo, quindi anche qui perde di tonalità rispetto a quella che avrebbe avuto, diciamo, probabilmente da qui alla fine all'Empoli, però magari può guadagnare a De Bonos in più, può guadagnare anche un po' più di hype dettato dalla Roma, da questo trasferimento comunque importante per i giallorossi, allora diciamo l'ina di massima Baldanzi si può assolutamente tenere, più da jolly che da titolare fisso, e poi non va neanche a stravolgere troppo diciamo le gerarchie della Roma, perché comunque sì, magari il Scherro a avrà più concorrenza, Di Bala ha finalmente un vice, però comunque non è che Di Bala farà panchina a Baldanzi se sta bene, Pellegrini giocherà, quindi è più magari per giocatori come Awar, che già erano sul loro dello svincolo, adesso magari hanno ancora più concorrenze, quindi si possono tagliare. Per tutto il resto, per l'asse di riparazione non solo, l'app di SS Fanta, veramente con tutti gli aggiornamenti. Ciao!